Come Presidente di Cortona Sviluppo sono felice di affermare che ancora una volta la nostra società, la maggioranza di capitale pubblico, ha detto sì ad una richiesta fatteci dalle francesioni per garantire la sopravvivenza di quella che è una mostra importantissima e conosciutissima a livello nazionale. La nostra società, già in altri campi, si sta impegnando, avendo sempre come vocazione l'interesse della collettività, del nostro territorio e anche in questo caso naturalmente si farà carico seriamente della gestione di questa manifestazione sempre con lo sguardo rivolto a quello che è il mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli davvero ottimi che ha raggiunto le linee anni. Quindi è importante affermare che già la domani noi voteremo al lavoro per l'organizzazione di questa manifestazione.